musica 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 sono stati che mi fanno caro Forse faccio Oltre e avesse Nella Francesca Ci sono stati 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 Se volete si è abitato e io ho fatto sono i ragazzi i ragazzi sono i ragazzi che sono i ragazzi e non è e sono i ragazzi noi abbiamo i ragazzi sono i ragazzi i ragazzi Sì, non è un problema, non è un problema, non è un problema. Anche la mia? No 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 S 뭐 Si pon I will, si va non a me Non è Non è Non è Non è Ah, sia Si la mia ha no, non i S'enlou a i Ele, c'è la mia Si la mia ha no Ah, basta Non si va nel nord La mia No Mi Mi Tu doi Iscrivete, bro No Nd Qu'è è la mia? No Ti Non 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 Ma Sì Non No, non mi piace, non mi piace, anche con i tassini, e io non mi piace, non mi piace, non mi piace, per favore. il nostro corso www.mesmerism.info 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 Assalamualaikum 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 e che se siera la morte se siera il alessio non mi piace il fa l'acca quando sei quando sei quando sei quando sei quando sei la vita quando sei il fa lì ma non la faccia non 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 se si non c'è ritva ragazzi, il vero tu rentre Non, non, non c'esterei che poi. E' a quel punto del pezzo alla sua stessa? E' bene, hai bicho conto? Perché è la tua gente, non mi disse ho, però... ...che non mi disse... C'è l'effetto della tua madre. Come se è l'effetto? Perché io non ti so? Perché io ti so? Ma fatima mi fo? E allora poi si quando ha fatto l'affetto? In Caracol mi hanno cerrato la famiglia Mi hanno detto che mi ha detto che non so In America Mi hanno detto che mi ha detto che non so Noi, non so Mi hanno detto che non so I non so Non so Ti fai detto che non so Device! Prego! Mi non parmi! Mi non parmiato! Mi ne xerzie il mio frattere! Noi! Mi un'occhio! Mi unico! Non! Non! Mi ovo una macchina a parlato della palma! Si questo è tutto! Mi usano! Mi non parmiato, nonno! Mi non parmiato! Mi unico! Mi avevo una macchina! Ah! la famiglia forse forse per non se forse non proprio per Voi conosci come mi mi lanta Mi mi lana e buimo A wargo si nabimmo ma co di nado Assalamualaikum Waalaikumussalam Come, come do you like? And what did you think? We're with my business Because of you like it Now your best You know your mission I need to learn And you wine non è così? no, io mi sono bello e se ci sono i amici e non è così 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.